Io lì non ho detto niente perché alla fine era gente che rubava Sono tornati La seconda volta invece ce l'avevano quegli immigrati Fermavano i mezzi pubblici, salivano, bloccavano le porte Chi non aveva i documenti? A casa E anche lì io non ho protestato perché Upe, erano immigrati clandestini Sono tornati un'altra volta, questa volta invece ce l'avevano quegli gay Hanno cominciato basta gay pride, chiuse tutte le associazioni omosessuali Tutti a casa E anche lì non mi sono lamentato perché mi davano un po' fastidio comunque Ma c'erano castigli Sono tornati un'altra volta E questa volta hanno chiuso Tutti i centri sociali Hanno arrestato tutti quelli che manifestavano fuoco le basi militari Centri sociali Gente che comunque lottava E anche lì non ho arrestato niente perché, oh, che pare Sono arrivato l'ultima volta E questa volta invece hanno preso me E non era rimasto nessuno a protestare La vita a partire di fuoco le loro E il semplice 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti